Buongiorno a tutti, video in ritardissimo post-Azerfritown vs Liverpool, importantissima vittoria del Liverpool, arrivata in una partita che abbiamo fatto di tutto per complicarla, partita complicata sia dalla nostra Boria in attacco che ci impedisce di segnare due o tre gol nonostante le occasioni ci siano, gente che fa col piedi tac, gente che prova la giocata più difficile, centomila passaggini, partita complicata anche dalle pause nazionali che hanno tolto tantissima energia se mai ce ne fosse stato bisogno, se da una parte abbiamo recuperato dall'altra abbiamo perso tantissima energia grazie a queste nazionali di merda. Senza contare l'infortuna abbiamo, oltre al Manet e a Naby Keita, abbiamo rischiato di perdere anche Salah e Van Dijk, Van Dijk che sta giocando ottimamente ma sembra Frankenstein è assemblato, in condizioni pietose. E vabbè, comunque l'importante è la vittoria, ma ancora più importante è stato il fatto che dopo quattro partite senza gol si è sbloccato Salah. Salah che in questo avvio di stagione ne ha avuto di tutti i colori, un po' di calo fisico dovuto sicuramente a una preparazione molto più pesante. Il problema alla spalla causato da quel clandestino di merda di Sergio Ramos, in finale Champions, ci ha avuto poi che ultimamente lo stanno veramente marcando in 7-8, insomma tante cose che gli hanno un po' reso complicato questo avvio di stagione. Però comunque qualche gol ha fatto, ieri ha fatto il gol partita, ha avuto l'occasione anche per fare 2-0 la palla uscita di un pezzo così, non ha giocato malissimo. Fondamentalmente l'unica cosa che ha sbagliato è quando ha provato a forzare la giocata, il colpo di tacco del cazzo, il passaggino che non c'entra nulla, il dribbling inutile, perché se giocasse semplice, come giocava semplice lo scorso anno, sarebbe tranquillamente devastante come lo era lo scorso anno, e lo ritornerà perché comunque quando si entrerà nel vivo della stagione, e lui sarà perfettamente in forma, avremo un salà al 100%. Pessima l'età di Firmino, purtroppo lui quando entra a partita in corso raramente la zecca, per il resto la squadra che ha giocato non bene, non bene, abbastanza bene in difesa, che ora come ora è il punto forte della squadra, non troppo bene a centrocampo dove Henderson era completamente fuori forma, dove manca Navikeita, dove Lallana ha giocato fin quanto ha patuto ma in condizioni pietose, dove Milner un po' ha recuperato delle infortuni un po' no, dove fondamentalmente c'è soltanto il povero Vanaldum che mantiene i livelli di forma accettabile, e Fabinho anche che ieri è entrato benino in partita, spero che si ambienti il prima possibile nel calcio inglese. Tanto altro non c'è da dire, i tre punti erano obbligatori, i tre punti sono arrivati, poi del come è del tutto rilevante. Certo, una vittoria 3-4-0 dopo la pausa nazionale sarebbe stato un buon incentivo per le partite dopo, ma l'importante erano i tre punti, perché il Sitio ovviamente ha vinto, 17-0, quindi così abbiamo mantenuto la vetta con loro, perché i clandestini di Manchester e del Chelsea si sono annullati a vicenda, con un pareggio, perché il Tottenham continua a vincere, quindi è sempre lì, anche l'Arsenal, se non mi sbaglio, ha vinto, quindi è sempre lì, quindi i tre punti erano obbligatori, e lo saranno per un po' di tempo, perché scontri diretti fra le Big non ce ne sono per un po' di tempo, le altre Big. Ok, allora, detto questo, detto tutto, ci vediamo al prossimo video, sempre Forza Liverpool, ciao!